Se io tolgo i 120 milioni che vengono dati alla Polizia afghana per operazioni di supporto alla formazione dei militari e quindi dovrebbero stare nella parte di competenza della Commissione di Difesa, si riduce tutto a un misero 11%. Questo ci porta a avere anche, come dire, a livello internazionale, ne è un po' la diatriba sul seggio all'ONU un esempio, il fatto che la nostra presenza massicciamente militare e in parte minoritaria da un punto di vista di cooperazione poi ci porta a avere meno influenza in quelle sessioni. Io concludo, Presidente, dicendo che queste impostazioni del decreto, come altre volte, ci ha visto contrari e penso che anche questa volta rimarrà dello stesso spunto con la richiesta per il Governo e per la maggioranza di valutare alcuni ordini del giorno nel merito che possono essere approvati. per ottimizzare quelle che sono le conseguenze di questo decreto. Grazie. Grazie. Facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Si riserva in altra fase. Sospendiamo a questo punto la discussione sulle linee generali che riprenderà nella parte pomeridiana la seduta a partire dalle ore 16.15. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento e le interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.